Il ristorante L'Antico Palmento, in Gagnetti Buonasera! Buonasera! Ecco il menù! No, guardi, anche stavolta mi fido di voi Ottima scelta! Il cliente del tavolo 412 ha detto Fate voi! Non avevo dubbi! Tutto questo è possibile! Non esserci è una missione impossibile! La musichetta, diciammi i fatti seri, ciao tu! E che cosa abbiamo fatto? Siamo averti a pranzo Ah, e anche a cena! Facciamo pure i banchetti E anche i meeting! Facciamo i pranzi e le cene di lavoro E le convenzioni con privati e aziende E poi... E poi ci siamo anche noi, diciamolo! Ed è un fatto buono! E certo, è la verità, è una missione possibile! Allora, fai la faccia da figo fa! E poi ci siamo noi, diciamo! E poi ci siamo noi, diciamo!